eccoci eccoci come state ben ritrovati un saluto a tutti è collegato collegato vi ricordo come sempre di commentare numerosi di lasciare un bel like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella iscrivetevi numerosissimi il canale personale che ci sotto nel link arriviamo oggi stesso 21 mila iscritti chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di milano vi ricordo anche che c'è la festa di milanello il 3 maggio venerdì 3 maggio ore 19 30 già tantissime prenotazioni mi raccomando qui sotto c'è il numero di telefono per mandare il vostro whatsapp per prenotarvi alla festa sarà una pericena con tanti ospiti rossoneri ingresso 15 euro complessivo di mangiare di bere consumazione e apericena ci sarà anche il microfono possibilità di fare domande discuteremo insomma una festa rossonera dei 100 mila iscritti e poi festeggerò un po anche idealmente il mio compleanno che sarà poche ore più tardi quindi mi raccomando ci tengo e chi si prenota me lo scriva perché voglio vedere chi c'è siamo già tanti prenotati allora ragazzi ho le imposte chiuse perché è diluvia qui e domani però dovrebbe essere bel tempo per il milan me bene 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 così allora intanto ieri sera avete visto la partita tra le city mamma mia cioè ogni azione era uno spettacolo ogni azione poteva accadere qualcosa c'era un tiro una conclusione davvero squadre che si sono affrontate a viso aperto con un quoziente di tecnica pazzesco e se due squadre hanno la stessa filosofia orientata allo spettacolo viene fuori uno spettacolo clamoroso se una delle due squadre non è orientata a questa filosofia non viene fuori uno spettacolo clamoroso in questo senso mila roma non mi aspetta uno spettacolo clamoroso se non altro perché la roma è una squadra che tende a chiudersi un po' anche se adesso con De Rossi ha cambiato un po' filosofia però vediamo magari verrà fuori un bello spettacolo vedendo ieri mamma mia cioè chi chi è andato a vedersi la partita ha speso i soldi del biglietto bene anche se è molto caro il biglietto lì vedremo un po' noi ho visto poi cattiveria sottoporta quella che vorrei vedere più spesso in Rafa Leao che ieri è stato premiato da Furlani per le 200 presenze Furlani dice tu pari del Milan e dici che il Milan è come una famiglia dici che il mister è come un papà quindi io sono come uno zio siamo molto contenti di averti nella nostra famiglia mi raccomando continuo a ispirare tanti giovani milanisti e Leao ha detto sono orgoglioso molto contento qui la mia famiglia e casa mia grazie a tutti spero di farne altre 200 partite qua lo speriamo anche noi e visto che ne ha parlato male Cassano nell'aria ci potrebbe essere non solo un gol 2 una doppietta domani di Leao non sarebbe male ragazzi che ne pensate a me non dispiacerebbe affatto poi ovviamente bisogna stare attente alla fase difensiva l'allenamento sta per finire o è finito se vedete questo video un po' più tardi il dubbio è tra Ciao e Kier però l'ottima notizia è rientro in gruppo ieri di Ciao che vi ho raccontato non qui su Milanello ma sul mio canale personale e che è un bel punto di tranquillità anche se non è al top è meglio un Kier non al top o un Ciao non al top c'è dall'altra parte Lukaku secondo me forse sarebbe meglio un Ciao non al top per stazza ho visto tanti commenti anche molto duri nei confronti di Ciao dicendo ma se non gioca forse meglio vendiamolo vedo che c'è tanta sfiducia non dico generale ma abbastanza diffusa su il nostro difensore che posso in parte capire perché non sta facendo una bella stagione dall'altra parte ricordo che è molto giovane chiedo scusa che anche Tomori l'anno scorso ha fatto male ad esempio e che insomma secondo me merita fiducia calma forse ha bruciato le tappe appena entrato in squadra però ha 22 anni e io spero possa esserci e possa fare un finale di stagione positivo da protagonista io non lo vendo Ciao no no me lo tengo e secondo me Ciao può diventare un giocatore molto forte per il Milan e non per altre squadre spero se non per la sua nazionale entrato anche nel giro della sua nazionale maggiore e non mi sembra una nazionale di secondo piano anzi poi attenzione perché siamo probabilmente di fronte a una svolta e forse di fronte a un'altra svolta molto 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 significativa che potrebbe cambiare diciamo così la vita dell'estate rossonera poi parleremo anche del discorso allenatore oggi la gazzetta scrive più o meno vinco e resto riducendo la conferma di De Rossi e di Pioli alla vittoria del passato del turno in semifinale di Europa League secondo me non è soltanto questo e poi ripeto ne parleremo prima però passo dalle parti abbiamo parlato di Leao passo dalle parti di Ciucquezze perché ragazzi io ero molto 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 contento del suo arrivo ritenevo che fosse era l'acquisto che mi dava più good vibes come dicono quelli giovani qualcuno si arrabberà perché ho utilizzato termini inglesi pazienza e poi però ha fatto male dicevo ragazzi è vero dicevo così mi sarò sbagliato dopodiché ecco è successo che qualcosa nel frattempo è accaduto guardando un po' e poi veniamo all'altra bella notizia speriamo tanto guardando un po' ecco intanto diciamo che se noi domani facciamo la semifinale lei sì semifinale magari quarto di finale Europa League è perché lui ha segnato quel gol con Newcastle il gol qualificazione quantomeno in Europa League guardando un po' lo score ho sott'occhio da Sofascore che considera per dare valutazioni l'algoritmo, i tiri, il recupero palla, gli assist, le giocate, i percentuali passaggi riusciti eccetera eccetera vedo un crescendo di valutazione con il Monza 6.9, con l'Empoli 7, con il Verona 7.4, con la Fiorentina 7, con il Lecce 8.2 effettivamente un crescendo per una stagione che se guardiamo i numeri intendiamoci è ancora non positiva 26 partite con il Milan, 3 gol e 2 assist sicuramente però è molto diversa da quella di Chetelaro lo scorso anno che aveva fatto soltanto un assist e lui ricorriamo ha fatto 2 gol in Champions in 4 partite, 1 gol e 2 assist in Serie A e poteva essere qualche assist in più se qualche compagno avesse sfruttato meglio certe situazioni la svolta è la svolta dopo la Coppa d'Africa lui arriva in ritardo di condizione, fa un lavoro, Pulisci esplode poi quando sta per entrare nelle rotazioni si fa male e l'infortunio non è di una settimana o due, è più lungo rientra, fa qualche partita, c'è la Coppa d'Africa, quindi va via dopo la Coppa d'Africa, inizialmente lui si diceva non è che si allenasse tanto tanto bene l'aveva detto anche Pioli in conferenza stampa poi ha fatto lo switch ed è cambiato un po' tutto 45 minuti con il Monza in cui però le cose non vanno bene due partite in panchina tra Atalanta e Lazio non entra nemmeno come segnale che gli dà anche Pioli e poi Empoli, bene, Verona un gol, Fiorentina bene, Lecce bene, a livello di prestazione fa anche un assist secondo me siamo di fronte alla svolta per il nostro Samuel Ciucqueze potrebbe diventare piano piano un Leao sulla fascia destra Pulisic ha caratteristiche diverse rispetto a Leao, ma è un giocatore pazzesco Ciucqueze ha caratteristiche diverse rispetto a Pulisic e anche rispetto a Leao però è uno che quando punta ecco difficilmente riesce a tenerlo abbiamo visto anche in ultima partita non c'era soltanto Gallo, terzino del Lecce ma c'era anche raddoppio e lui o entrava tra i due o andava sul fondo e poi sfondava mi sembra che si è diventato anche più tosto all'inizio un altro difetto era che voleva strafare e lo strafare non ti aiuta mai alla fine non concludi nulla mi sembra che poi abbia trovato il suo equilibrio ultimamente tra giocate, assist, insomma prestazione soprattutto molto molto bene deve trovare un po' di più la porta ha fatto un gol in campionato secondo me per uno che parte, entra in area e poi ha la giocata in orizzontale per il compagno o il tiro è uno che potenzialmente può fare i suoi gol ne ha fatti due in Champions, uno in campionato è riuscito ad aspettarsi anche da questo punto di vista una svolta aiutata dalle prestazioni se il prossimo anno Ciuqueze ha svoltato allora ragazzi Leao, Pulisic e Ciuqueze notevolissimo e poi puoi fare anche un turnover più ragionato e non magari un turnover in cui ti metti le mani in capelli o gioco a Ciuqueze come aveva successo ad esempio col Monza quando c'era stato un turnover molto ampio nella gara che avevamo fatto appunto male detto questo forse non soltanto quella gara lì detto questo, bene, io credo che abbia svoltato e sono curioso di vederlo nella gara di domani dalla panchina mentre giocherà sicuramente titolare contro Sassuolo e ragazzi in questo mese e mezzo che ci separa dalla fine della stagione voglio risposte sempre più positive della Ciuqueze così che la considerazione di tutti torna a essere notevole o magari diventa notevole se qualcuno invece era scettico magari oggi lo è un po' meno è vero, non è che abbia fatto chissà cosa cioè è poco ancora però io credo che abbia svoltato a proposito di svolta la nostra estate sarà caratterizzata da ansia e speranza in termini di rinnovi ansia perché dici ragazzi se non rinnoviamo Teo e Menian li cediamo perché questa è l'estate in cui puoi tu massimizzare il ricavo oppure se lo tieni un altro anno il valore scende dall'altra parte speranza speranza di tenerci i nostri giocatori migliori quindi rinnovo Menian rinnovo anche Teo Hernandez è successo però a gennaio che è venuto meno il decreto crescita e questo io ero disperato quei giorni ha di fatto non soltanto io soprattutto Furlani ha abbassato di molto le speranze di rinnovo di contratto ad esempio Teo che oggi prende 5 milioni bonus compresi sono in realtà diciamo 7 7 e mezzo all'ordo se tu rinnovi Teo gli ne dai 6 sono 12 è quasi il doppio sempre che gli dai soltanto un milione in più per questo non avere il decreto crescita è un grave danno così come per Menian ne prende 3 gli ne devi dare 6 non sono più 6 non sono più i 6 all'ordo che anzi 4 e mezzo all'ordo che gli dai oggi ma diventerebbero 12 il gioco è presto fatto il vantaggio fiscale del decreto crescita ci ha permesso di andare a prendere l'off to stick purisic eccetera eccetera attenzione perché potrebbe esserci una svolta in termini di rinnovo ma non soltanto scrive oggi Repubblica molto informato sulle cose di politica di calcio nuovo decreto crescita la Serie A studia le crepe nel sistema già nel video della scorsa settimana vi raccontavo che c'è questa possibilità di mantenere il decreto crescita questi vantaggi fiscali per chi ha preso casa in Italia o ha dei figli piccoli pensavamo a Teo Hernandez ora però il discorso potrebbe essere allargato i club di Serie A studiano le norme del contestato taglio del decreto crescita la situazione appare meno compromessa rispetto a quanto sembrava dicembre e ci sarebbero spiragli importanti per continuare a godere dei benefici fiscali ancora per un tempo ragionevole quindi in quel decreto ci sono delle crepe e sembra che la situazione possa essere positiva per continuare a usufruire di questo decreto crescita ora non è dato a sapersi se soltanto per chi già ha il decreto crescita nel proprio contratto vedi Teo vedi Mignan eccetera o se anche per chi arriva dall'estero come era prima però questa per tanti club ma noi pensiamo a noi potrebbe essere la vera svolta e forse ci fa capire anche come in questo senso Maurizio Bricchi di Bricchi cazzaniga.it l'ambulatorio rossonero ragazzi se avete bisogno andate vi metto qui sotto il link e andate da un fratello rossonero aveva detto non vorrei che magari il discorso dei rinnovi un po' fermi soprattutto su Teo è dovuto al fatto che sperano che ritorni il decreto crescita effettivamente sembra esserci una speranza molto 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 importante uno spiraglio molto importante sembra esserci fiducia nel palazzo del calcio per poter di nuovo soffrire del decreto crescita a quel punto i rinnovi che io definivo quasi impossibili o molto improbabili diventerebbero decisamente più probabili e possibili quindi avremo molti elementi più in mano per poterci giocare questi rinnovi aspettiamo vediamo però ripeto c'è fiducia e speriamo che la cosa possa accadere anche in tempi brevi la volontà ovviamente è di arrivare in tempi brevi proprio per soffrire nella prossima finestra di mercato per rinnovi tanto desiderati non soltanto per il Milan uno dei primari promotori di questa reintroduzione è l'Otito quindi dimmi che ne pensate ragazzi vi metto qui sotto il link brickcazzaniga.it poliambulatorio a Milano in via Murat esperienza quasi quarantennale odontoiatria medicina estetica anti-aging osteopatia fisioterapia io mi affido a loro ve lo consiglio perché sono molto bravi vi mettono a vostro agio e soprattutto andate sul sicuro tra l'altro Rossoneri Doc qui sotto se avete bisogno mi raccomando andate da loro e ditemi che ne pensate di tutto commentate numerosi ciucquezze e il discorso su Raffaleao il discorso sul decreto crescita e ovviamente ecco anche un po' le aspettative su domani ciao okier commentate lasciate un like iscrivetevi da questa parte attivate la campanella numerosissimi mando un abbraccio a tutti iscrivetevi anche al mio canale personale vi aspetto poi il 3 maggio ci sarà anche Maurizio Bricchi di bricchicazzaniga.it alla festa di Milanello vi metto ancora qui sotto il link o meglio il numero di telefono per prenotare un abbraccio grazie a tutti